Buongiorno, benvenuti a Mido 2013. Siamo con Gianlunco Mirante, il direttore per l'Italia dell'Hong Kong Trade Development Council. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, cosa rappresenta per voi Mido? Mido rappresenta il più importante punto di sbocco, per così dire, di visibilità dal punto di vista delle nostre aziende produttrici di occhiali del settore affine di Hong Kong. La presenza di 56 aziende espositrici ne è la testimonianza che credo sia a tutt'oggi la più numerosa qui a Mido. Qual è il vostro ruolo operativo all'interno del mercato asiatico? Il nostro è l'ente ufficiale, ripeto, HKTDC, che è Hong Kong Trade Development Council, è l'ente ufficiale responsabile della promozione e dello sviluppo del commercio estero di Hong Kong. In altre parole, favoriamo e creiamo le opportunità di contatto e commerciali tra le piccole e medie aziende di Hong Kong e le loro omologhe nel resto del mondo. Per cui siamo in grado di introdurre le aziende, nella fattispecie italiane, nel mercato asiatico, in particolar modo quello cinese, attraverso Hong Kong, che chiaramente garantisce tutta una serie di vantaggi, non solo fiscali e economici, con minor burocrazia, ma molto pratici. Vorrei citare ad esempio un accordo di libero commercio che ha siglato Hong Kong con il governo cinese nel lontano 2004, grazie al quale i beni prodotti a Hong Kong, o comunque in transito da Hong Kong, sono soggetti a dazio zero nel momento in cui vengono esportati verso il mercato cinese. E chiaramente le aziende italiane possono essere favorite da questo tipo di accordo, facendo delle partnership con quelle di Hong Kong. E in merito invece ai rapporti con il mercato italiano, cosa possiamo dire? In merito del rapporto con il mercato italiano, chiaramente Hong Kong, dopo l'Italia e la Cina continentale, è il terzo produttore al mondo. Per cui parliamo di cifre elevatissime e di enormi interessi commerciali che intercorrono da diversi anni, non da oggi assolutamente, tra le aziende italiane e le aziende di Hong Kong. Posso citare che da molti anni esiste una sorta di sodalizio, una sorta di reciproca fiducia tra Hong Kong e l'Italia nell'ambito dell'occhialeria, grazie al quale sono state esilate numerose partnership, favorite appunto a emissione dei prodotti all'interno del mercato cinese, ma anche a produzioni di qualità elevata da parte delle aziende di Hong Kong per conto di quella italiana. Va bene, quindi speriamo che questo connubio continui nel tempo, la ringraziamo per essere stato con noi e in bocca al lupo per questo video 2013. Grazie mille, grazie. Grazie.